Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, 4 km di coda per incidente tra Barberino e Calenzano. In direzione Bologna, coda per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. E per lavori sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla Fibilipe, lavori di messa in sicurezza del viadotto del Turbone, un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!